Scherzando ma non troppo ci stavamo chiedendo, ma come calcia Napolano? Adesso al di là del gol splendido di Domenica, è un tuo modo particolare di calciare? Anche le punizioni, come la piglia la palla? Diciamo che Domenica fino a quel momento avevo avuto poche occasioni per calciare in porta e quindi in quell'occasione in cui mi sono liberato e ci ho avuto qualche metro ho provato a calciare, poi è normale, ci vuole anche un pizzico di fortuna diciamo che ho un modo tutto mio di calciare, sono stato anche un po' fortunato e va bene così, non è che c'è un segreto, è una cosa che se uno ce l'ha e ogni tanto la prova va bene perché poi magari ogni tanto ti esce anche Ed è stato un gol veramente meraviglioso che ha dato praticamente la certezza di vincere la seconda gara consecutiva poi ampliata da un altro Eurogoal del tuo compagno di squadra aggiungo però che adesso ci chiediamo se il San Nicolò che conta è questo o se il San Nicolò vero era quello che stentava un po' Io mi auguro che sia questo quello delle ultime due partite penso che abbiamo dimostrato in queste ultime due ma anche io ci metto anche la partita con la Vispesaro di essere una squadra solida, di essere una squadra che subisce poco poi è normale, nel calcio ci vuole sempre un pizzico di fortuna come lo siamo stati domenica, come lo siamo stati anche le domeniche precedenti la fortuna va sempre dalla parte di chi se la cerca quindi secondo me in queste ultime tre partite abbiamo cercato di trovare la nostra solidità la nostra identità, ci siamo riusciti, i risultati sono arrivati e speriamo di continuare su questa strada Il banco di prova di Campobasso credo che sia molto attendibile Sì, sicuramente sarà una partita difficile secondo me bisognerà prepararla bene, lavorare tanto durante la settimana come facciamo sempre e andare lì e cercare di fare la nostra partita cercare di imporre il nostro gioco e naturalmente cercare di vincere perché la nostra è una squadra che può vincere secondo me contro tutti e quindi è giusto che ci proviamo anche a Campobasso Ultima annotazione, condizioni di Napolano fisiche perché tutti sanno che al 100% Napolano sarebbe di passaggio in questa categoria Ma io diciamo che vengo da un anno dove è un po' travagliato sia dal punto di vista degli infortuni che ambientali quindi l'anno scorso ho avuto qualche problemina a livello fisico quest'anno ho iniziato dal ritiro, mi sono sempre allenato ho trovato continuità, è normale che secondo me ancora non sto al 100% La condizione, il massimo lo si raggiunge quando si dà continuità nelle partite quando si gioca sempre quindi io mi auguro che nelle prossime partite mi auguro di riuscire a trovare la condizione migliore per cercare di dare una mano ai miei compagni a fare sempre di più